Allineamento con le nuove manifestazioni di Mashubi Shekhinya Carissimi amati, in questo momento, mentre la Sacra Terra è entrata in una nuova fase della sua transizione, tutti gli esseri che vivono in essa stanno avanzando con forza e sicurezza nel loro scopo animico. Ciò che è più utile per navigare in questi tempi è un allineamento forte e sicuro con le nuove manifestazioni di luce. Questo allineamento sarà unico per ogni anima incarnata e viene percepito dall'interno. Può essere percepito nel corpo, nel cuore e nella coscienza come una sensazione di giusta direzione, una sensazione di giusta azione e una sensazione di espansione del cuore. Non è sempre possibile percepire queste sensazioni, cari Santi, perché è in atto un processo di purificazione molto dinamico. Ciò che è utile è avere pratiche di allineamento regolari, qualcosa che fate ogni giorno e che aiuti il vostro corpo, la vostra coscienza e il vostro cuore ad unirsi il più possibile. È anche necessario avere la più profonda compassione, cari Santi, perché molti di voi stanno attraversando passaggi e forti cambiamenti e in questi momenti potreste non sentire l'allineamento. Le nuove manifestazioni di luce porteranno maggiore sostegno, maggiore sicurezza ai vostri passi, cari Santi. Potete allinearvi con queste nuove manifestazioni attraverso la preghiera e l'intenzione. Alcuni di voi possono vederlo nella loro vita quotidiana, la prova esteriore del nuovo. Altri forse non lo vedono ancora, ma lo sentono o lo desiderano e pregano per questo. Amati, è possibile riunirsi con l'intenzione di allinearsi in qualsiasi forma vi sia utile. Vi incoraggiamo a crearle e anche a cercarle. Ciò che è più utile, cari Santi, in questo momento di transizione della Sacra Terra è incontrarsi con Lei al centro della vostra coscienza, sintonizzarsi con i Suoi bisogni, la Sua guida, la Sua transizione. Questo approfondimento del rapporto con la Sacra Terra è necessario non solo per Lei, ma anche per ciascuno di voi, perché i vostri corpi sacri sono fatti di Lei, unendovi in questo modo potete aprire la porta a una maggiore guarigione per voi stessi e per i vostri sacri fratelli e sorelle sulla Terra, che in questo momento stanno tutti cercando di guarire. inviamo tutto l'amore e le benedizioni e la più profonda gratitudine a voi, cari Santi della Nuova Terra. traduzione e voce marina Grazie a tutti. Grazie a tutti.